Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video non può farvi vedere come sarebbe l'Homo Wind Simulator nella vita reale. Questo è un tagliaerba della Electrolux, mentre questo è un frullino tagliaerba della Kawasaki. Prima di tutto però dobbiamo far benzina. Allora questo tagliaerba qui si nutre di normalissima benzina. Mentre questo frullino tagliaerba qui di benzina più un 2% di olio, quindi una vera e propria miscela. Ecco qui invece l'erba che andremo a tagliare, proprio come è visualizzata nel gioco. Accendiamo i motori e si parte. Bisogna! Sì 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 Grazie a tutti. 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 Ecco qua ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.